Grazie a tutti. Ah, siete oggi particolarmente infortunati, prima gli si è fulminato il preampe, apposto che siamo riusciti in qualche maniera a fare la cosa. Poi prima in camerino, mentre parlava di questo fatto, che gli si era rotto l'amplificatore, era particolarmente triste, gli si è rotta la sedia ed è finito per te. Adesso non so se ti piace meno. Adesso c'era lo scapello lì, è sparito, quindi per un futuro mi ha dato il mio, perché se no è troppa roba. Non so se ti piace meno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.